Ma è proprio vero che la prescrizione lascia impuniti i reati più gravi? Falso! Infatti i termini per la prescrizione nel nostro ordinamento sono Fino a 63 anni per il sequestro di persona Fino a 33 anni per chi agevola l'immigrazione clandestina e per l'associazione mafiosa Fino a 27 anni per lo scambio elettorale e politico mafioso Fino a 15 anni per il traffico dei rifiuti Fino a 48 anni per l'omicidio stradale Fino a 33 anni per la violenza sessuale Fino a 28 anni per l'omicidio colposo Fino a 33 anni per la corruzione in atti giudiziari Fino a 18 anni e 9 mesi per l'induzione in debita a dare o promettere utilità Fino a 18 anni per la corruzione e per la concussione La prescrizione tutela il diritto di ogni cittadina a non restare sotto processo a vita Per questo non possiamo permettere che venga sacrificata per ragioni di propaganda Per questo noi la difendiamo Fino a 18 anni per l'induzione in atti giudiziare il diritto di ogni cittadina a non restare sotto processo a vita